Gianfranco Zola. Zobano di Oliana ha i su tampone. Su campioni ardui, essi interviene, può aiutare i suoi indi e il busto del congiù. Sapo di Dominia o Laos ha nato i sui tamponi in questa provincia di Nugoro. Può ponne fronte al suo virus. Viervinza di Oliana non sarebbe disinteressata, ma poi le persone non andate a sia il suo tampone. Su Gese e Susetta di Vriarzo, solo su 33 po' entro delle persone di Oliana, hanno aderito all'uare. Da questa provincia arriva il suo invito, poi su tre esibatori di Gese e Vriarzo può tornare a ripetere i suoi tamponi. Ha chiesto un azzurro e uno paesano solo, un noto in tutta la possibilità di zonare la bozza. Può un vincere solo zobano di zonare e intervenire. Gianfranco Zola nasce in Oliana, uno dei suoi mezzo di zonare e mostrante in Sardinna. Ha mandato un video a sussendere di zonare, Bustiano Congio, Nande. È il momento di comportare un aumento di una squadra di calcio. Tutti appena sono i doveri solo. Siamo iniziando, la squadra funziona bene. Zola si chiede a sussendere il suo video a Nau. L'uso Nande a tutti i suoi zobano, i Gese non sono andati a fare il suo tampone. Dopo che stanno più responsabilità. E poi spediamo su un azzurro, così rimus con nefrenua su Covid. Grazie per la visione!